Salve a tutti fratelli e sorelle, benvenuti nel nuovo appuntamento di Vito Pensiero. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa volontà, loda e gloria a nostro Signore Gesù Cristo e Ave Maria. Come avete visto dal titolo, si parla di questa puntata di Eutanasia che è avvenuta a Trieste. Un articolo che prendiamo dalla nuova bussola quotidiana e va a vedere proprio questa situazione. Dice Eutanasia a Trieste, ecco dove porta la legge sulle datte. Claudio De Manzano, 84 anni, rimane paralizzato nella parte destra, incapace di parlare. La figlia, divenuta amministratore di sostegno, chiede lo stop di alimentazione e idratazione, dicendo che il padre, senza datte, avrebbe voluto così i medici, si oppongono. Ma lei ottiene il trasferimento in una clinica dove il genitore muore di fame e di sete. Una deriva causata dalla legge 219. Pensate che il caso Lamberti non sarebbe mai potuto accadere qui in Italia? Allora leggete qui. Claudio De Manzano, 84 anni, è colpito da ischemia celebrale nel dicembre dello scorso anno. Viene ricoverato nel reparto neurologico Storoc Unite dell'ospedale di Cattinara a Trieste. Arriva a gennaio e De Manzano continua a versare in grave condizioni. Parte destra paralizzata, incapace di parlare e mangiare, senza aiuto del sontino nasocastrico. A quel punto, racconta la figlia Giovanna Agusta, dal quotidiano Il Piccolo, mi sono domandato cosa avrebbe voluto lui in una situazione del genere, per se stesso, anche senza aver mai manifestato la propria volontà con le date. La donna racconta che prima del trauma, lei e il padre avevano spesso parlato del fine vita e il padre le aveva fatto capire chiaramente che non avrebbe mai voluto finire in una condizione come quella in cui ora lui versava, primo De Autonomia, incapace di camminare e parlare. La figlia allora si fa nominare amministratore di sostegno del giudice tutelare. Nel decreto si specifica che quest'ultima ha la facoltà di prestare il consenso informato in caso di necessità di cure meriche e interventi in rappresentanza esclusiva del soggetto amministrato, di assumere tutte le decisioni in ordine delle terapie ed eventuali sospensioni delle stesse, così come previsto dalla legge del Biotestamento numero 219 del 2017. Quindi lei, forte di questo decreto del giudice, prende la decisione di interrompere alimentazione e idratazione, ma i medici si oppongono. Dalle facoltà a favore dei medici è prevista dalla legge 219. La medesima legge prevede che nel caso di conflitto tra medici e amministratori di sostegno la pasta deve passare al giudice tutelare e così avviene. Dato che conosciamo il contenuto e dato che non conosciamo il contenuto del decreto, procediamo ora per ipotesi. Pare che il giudice abbia vietato di interrompere alimentazione e idratazione assistive, è certo invece che abbia permesso le dimissioni dall'ospedale chiesta dalla figlia. La signora Gusto allora traferisce il padre alla Salus, una struttura disponibile a interrompere alimentazione e idratazione e così il padre muore per fame e per sede il febbraio scorso. Non paga di aver sottoposto a eutanasia il padre. La figlia, che è anche avvocato, fa un esposto alla procura per verificare che la clinica di Cattinara abbia rispettato la legge. Il giudizio morale su questa vicenda è intuibile. Gravissimo aver ucciso il padre con o senza il suo consenso. Sotto il profilo giuridico invece che dire, in prima battuta il rifiuto da parte dei medici dell'ospedale di Cattinara di procedere a eutanasia è tutelato dalla legge. Secondo aspetto, per quale motivo il giudice tutelare avrebbe vietato di interrompere alimentazione e idratazione? Una prima motivazione potrebbe essere data dal fatto che il padre non voleva morire, ma probabilmente non è questa la vera motivazione. Infatti la volontà del paziente inabilitato non è vincolante. decide alla fine l'amministratore di sostegno e poi nel comunicato stampa l'ha lasciato dall'ospedale e non si fa menzione di questo aspetto. Forse la motivazione è semplice, il giudice si è trovato d'accordo con i medici nel non voler uccidere il signor De Manzano. Arriviamo infine ad un aspetto giuridicamente interessante. Come pare il giudice avrebbe vietato di interrompere alimentazione e idratazione, poi però in un'altra clinica questo divieto non è stato applicato. Qui la domanda, il divieto del giudice segue il paziente o è valido solo per una certa struttura ospedaliera? Il decreto del giudice vale solo per le parti dell'avvertenza, figlia versus ospedale di Cattinara? O non è valido erga omnes, ossia con tutti coloro che non sono stati parti in causa dell'avvertenza giudiziaria? Quindi i medici della clinica Salus hanno legittimamente potuto prendere una decisione diversa rispetto a quella presa dai colleghi del Cattinara. Questa vicenda ci insegna un paio di cose. Primo, come dice la legge 219, a decidere la vita e della morte di interdetti inabilitati dal rappresentante legale e solo lui. I medici possono opporsi, è stato un risultato del fronte cattolico durante i lavori parlamentari, il quale non riuscendo a ottenere l'obiezione di coscienza ha portato a casa questo sorrogato dell'obiezione di coscienza. Ma se il giudice poi decide che si deve uccidere il paziente, i medici non possono più opporsi. Se invece, come nella vicenda a cui narrate, il giudice è d'accordo con i medici nel non staccare la spina al paziente, poco cambia perché sarà sufficiente che il rappresentante legale trova una clinica accondiscendente e si arriverà comunque all'etanasia. Secondo insegnamento, il principio di autoterminazione del paziente se ne va in soffitta e viene sostituito dal principio di eterodeterminazione del rappresentante legale e del giudice. Il povero signor De Manzano magari aveva pur cambiato idea, non riusciva a parlare, però non era escluso che fosse cosciente, ma grazie alla figlia non potremmo mai saperlo. Una storia molto triste, ma questi sono i tempi che viviamo, cari fratelli e sorelle, questi sono i tempi e questo è quello che stiamo ovviamente vivendo. Preghiamo, 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 fratelli e sorelle perché queste cose avverranno, come ben sapete, in questa prospettiva di grande tribolazione che dovremo affrontare. Dio vi benedica, sia lodato Gesù Cristo e Santa giornata a tutti voi.